Parco centrale Cluj-Napoca, un paradiso in terra. Acqua che scorre sotto i ponticelli, tutto preciso, tutto molto pulito. Famiglie rumene che passeggiano tranquille nel parco. Guardate che spettacolo, questa è una vecchia struttura, è un ex casino che hanno messo a disposizione per eventi, matrimoni e quant'altro, guardate che spettacolo, tutto bello preciso, tutto bello pulito. C'è un cucciolo che dorme. Ah, ops, è mio figlio. Faccia linda. Bella gente, tutti belli saluti, che si godono la primavera della Romania. Oggi siamo a 18 gradi e si sta perfettamente asciutti, senza umidità. Si sta molto bello, c'è una brezza leggera, c'è tutto molto tranquillo. ragazzi che fanno le gite scolastiche, fanno. Qui c'è un piccolo laghetto, c'è molto bello questo laghetto, molto carino. dove si possono prendere anche le barchette per girare, tranquilli. là, come potete vedere, invece c'è una pagoda dove ogni sabato e domenica festeggiano e inaugurano centinaia di matrimoni. Sì, perché qua il matrimonio ancora è molto sentito, tanto. Fa parte delle tradizioni rumene. che dire... gli ho dato...